Diciamo, ciao a tutti, non si dicono queste cose, diciamo, ciao a tutti, benvenuti Siamo ancora tutti nero, è vero hai ragione, ma perché? Perché mamma è vestita da mercoledì Perché siamo andati alla festa di rene, è vero Leon? Sì, perché io ho mal di pancia E tu non hai mangiato niente perché è venuto mal di pancia, perché ieri e tra ieri e oggi si è fatto tutto l'uovo che abbiamo comprato di Eurospin di ieri, vero? Sì E quindi ti è venuto mal di pancia? Hai mangiato le patatine, hai mangiato le cose che fanno male la pancia mamma Sì Ma insomma, quindi siamo andati alla festa di rene, questi sono i regalini, tutto tema mercoledì Mamma, mamma, il telefono era impreso Niente telefono, adesso dobbiamo fare questo svuota la spesa, che nel frattempo che tu eri al... Sì, ascoltami, ascoltami Eh? Stiamo, dobbiamo far vedere lo svuota la spesa, che nel frattempo che siamo, che tu stavi alla festa di rene Eh? Vuoi aprire? Di qua si apre Mamma e papà sono andati a fare un po' di spesa lì vicino al Conad All'iperconad praticamente, nell'ipermercato, nel parco commerciale di Casa Massima Dove lì vicino, era sempre nel parco commerciale, c'era la pizzeria dove rene ha fatto la festa di compleanno Eccolo qua, che cos'è? Un libro! Un ricordino della festa, facciamolo vedere Avvicinalo Così? Un po' più vicino Così? Lian guarda il telefono Ho detto così? Così, guarda Ehi Così e dietro ci sono gli altri, come si chiama? Il pipistrello e le dondole Le dondole La talpa e sua madre Favole di Esopo Ok? Quindi sono delle favole mamma, degli animali Ma poi lo vuoi leggere dopo, eh? Dopo lo possiamo leggere, ci sono tutte le favole Guarda quanto sono belli Va bene Il pipistrello e la talpa e sua madre Vabbè, questo è il regalino di rene Allora, poi noi che cosa abbiamo fatto? Vedi, c'è uno scontrino, amore Siamo stati a fare la stesa In realtà abbiamo qualcosa per mangiare per stasera E poi mi sono comprata qualcosina anche così Dovrebbe stare lo scontrino Vabbè, intanto iniziamo a prendere la roba che abbiamo comprata Prendi, amore Che poi la bussa sta qua Non è tantissima Vabbè, c'era un casino di uova di Pasqua E abbiamo preso una Quella che voleva Lionna Oltre a quelli della Kinder Erano questo Era questo qua, vero? Di Gardaland Un ingresso in omaggio Per entrare dentro Gardaland Park Acquistando due biglietti A tariffa intera Un biglietto in omaggio Prendi, prezzemodo Sì, ma quindi su due uno paga E l'altro no Oppure... Eh no, qua si sta acquistando due biglietti Un attimo Quindi il terzo non dovrebbe pagare Ma Lionna non paga perché è un bimbo disabile Vabbè Al di là di questo Ehm... Non ce ne frega niente Noi volevamo L'uovo di prezzemolo E l'abbiamo preso Ok, amore? Sì, dove abita prezzemolo? A Gardaland Questo è un uomo dei 240 grammi Finissimo al latte Della... WITORS WITORS Come si chiama? Vabbè Ehm... Questo Poi Mi diciamo il prezzo dopo Dovrebbe costare un 10 euro C'è lo scontrino comunque nella borsa Vedi che hai comprato mamma? I taralli I taralli Quei fine le monoporzioni Sono molti... 5 confezioni Da 40 grammi Per fare una scuola Esattamente Esattamente Questi sono quelli classici All'olio d'oliva Poi Dicevo che ho preso appunto Qualcosa per Così in generale A parte per stasera C'è anche di gamberetti Sì, sono una specie di patatine Però di gamberetti Che piacciono tanto a mamma Si chiamano crack Di gamberi Wow Stasera ce lo mangiamo Perché? Perché abbiamo comprato Questo pesciolone Guardate come è grosso È molto grande Anzi, parte di qua E finisce qua Insomma, è una spigola È una spigola Mamma Perché ho preso il pesciolone? Il pescione Spigola Che è il pesciolone? Al Croazia Ah, quindi dico Della Croazia Siamo 7,90 euro di spigola Che c'è la faccia Però adesso papà Deve andare ad accendere il fuoco Adesso papà Deve andare ad accendere il fuoco Perché? E poi la mettiamo Ad arrostire la spigola E la mangiamo Poi mi sono presa Questa qua, amore Che domani voglio provare Vellutata patate porri È una specie di passato di verdura E dentro ci sono anche Questi crostini Qua di pane Da mettere dentro Bel passo A me piacciono le stesse cose Frittelle alle alghe Frittelle alle alghe Queste buono Le faccio anche Fregitrici ad aria Insieme al pesciolino Burger di rapa rossa Burger Sì, ho trovato questi qua Che sono dei preparati Che fanno loro Burger di rapa rossa Ovviamente vegetariano Perché non c'è carne E quindi Siccome mi piace Sapete tanto quanto mi piace La barbabietola E quindi ho detto Ok Prendiamolo E vediamo questo com'è L'ho pagato 2,40 euro Sosci e salmone Sosci e salmone A me piacciono questi Praticamente Questi sono i miei preferiti E quindi L'ho presa E niente 8,40 euro Di sushi 1,2,3,4,5 e 6 Anche 3 oggi Insieme al pesce Anche perché il pesce è uno Quindi ce lo divideremo Con papi E poi queste cose La pasta Questa era in offerta 95 centesimi La De Cecco E l'ho presa Le penette corte Che a me non mi piacciono Domani ne facciamo Le zucchine Questa era in offerta Sapete che lo uso Per cucinare Ed è l'olio extravergine Di oliva De San Giovanni Costava 4,42 euro Era buono Per quello che costa adesso L'olio Anche a Eurospin Hai visto amore Che l'abbiamo trovato Lo scontrino di Conad Ed è finita la spesa No aspetta Finiamo la spesa Poi diciamo Quanto abbiamo speso A Gardaland De Cecco Quest'altra Sempre Quest'altra pasta Ho preso tipo Che sono Tortiglioni Oh questo è rotto Vabbè Questa cosa Di tortiglioni Sì Tortiglioni Esattamente Sempre a 95 centesimi Papi si è voluto Prendere questa Zuppa Toscana 100% vegetale Basta amore È finito Sì Ok Abbiamo speso 45 euro Tondi 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 Che cosa All'uovo Dobbiamo vedere Quanto Wiltor Allora Aspetta amore L'abbiamo pagato 9,99 euro 8 euro Si non sapete 9 Eh vabbè Raga 8,99 9 euro Praticamente Sei contento Di questo uovo? Eh? Lo vogliamo mettere Lì sul mobile? Sì Che dici? Tienemole Perché a Gardaland Se prendiamo Dei biglietti? Lì c'è già Un biglietto Dentro All'uovo Un biglietto Maggio Gardaland Park Sì Gardaland Park Che andiamo in estate? Sì In estate andiamo Guarda È un posto Davvero lontano Eh Sei per il bravo Sì Sì Gardaland È un posto Davvero molto lontano Vero papi? Sì E vabbè Lontano e costoso Come tutti i posti Lontani Comunque Capito là Praticamente Se Acquisti due biglietti Uno Ti danno Un biglietto Omaggio Un po' come Ehi Un po' come dovremmo fare noi Perché Ma noi Acquisteremo due biglietti Non so se poi L'accompagnatore Suo Uno dei due Ha un ridotto Non lo so Ci dobbiamo informare Quando sarà Pire io Quando sarà Ci informeremo Intanto lo conserviamo Quello Poi vediamo Lian Quando mamma parla Non si interrompe Dobbiamo salutare Ma dei capelli Di tutti i colori Sono Infatti avevo le traccine Marrone Marrone E viola E diciamo anche verde Santa Maria Dovevi venire a farci i cappelli A farmi i cappelli Di nuovo Se non qua Perché verde Qua Dovevo Accendere il fuoco Sì accendere il fuoco Così poi Questo pesciolino Questo pesciolino Lo mettiamo Noi dobbiamo dire una cosa Dobbiamo dire Iscrivetevi al canale E poi cos'altro dobbiamo dire Ehi Salutare Salutare E vabbè sì Ci vediamo al prossimo video Basta Dove essere la Sofì Sofì sta vicina alla stufa Non la facciamo salutare La vuoi far salutare Prendi Prendi Madonna Lione Non correre Prendi Sofì Fala salutare Ma mi è postata Il braccio No Andate di girare Ah lì Attento Giro 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 Ecco l'acqua Sofì che è rossa Aiuto Ma perché Non dire aiuto Aiuto di che Aiuto di che Sofì sta muovendo Che si muove Vabbè dai Vi saluto Vuoi salvo e chiudere tu Sì Ciao Ciao Metti la giù Piano piano Ok Ciao